Il Quirinale suscita tante attenzioni perché mette a nudo la pochezza dei partiti, Sabino Cassesi osserva senza giudicare, e coglie il punto. Il dibattito politico segna il grado zero. I partiti incespicano, balbetano e si contorcono. Il PD di Enrico Letta deve fare i conti con una settimana complessa. La proposta di riforma costituzionale di Luigi Zanda ha creato un pasticcio e costretto il Colle a manifestare la sua irritazione. Della querelle romana Bettini Franceschini Zingaretti intorno a Gualtieri non parliamo neanche. Si ode ancora l'eco della porta sbattuta da Conte sul Collegio Roma Centro. La discesa in campo dell'Avvocato del Popolo, concertata tra PD e M5S, davanti alla gara in salita contro Carlo Calenda si è risolta con la fuga del leader Pentastellato. Che prova a mettere una pezza, mi candiderò alle politiche, ma lascia aperta la casella per Virginia Raggi, finendo per creare un impaccio in più per i dem. Beppe Grillo tace da due settimane, colpito negli affetti familiari dal rinvio a giudizio del figlio Ciro. Il polo del buonsenso teorizzato da Matteo Renzi come nuovo centro, arranca per i personalismi degli attori principali. L'occhio di bue, nel circo della politica, si concentra sul centro-destra in fervi d'attività. La festa di Atreu, unica kermess politica nazionale dello schieramento, è entrata nel vivo. E se il primo giorno ha mostrato di voler stemperare il suo carattere identitario, allargando il perimetro di dialogo ospiti inediti per quel contesto e incassando il giudizio positivo di Luigi Di Maio, FDI è più affidabile di Salvini, ieri è stato il giorno dell'economia domestica. Consiglio Berlusconi che ha ringraziato Giorgia Meloni del sostegno per il colle e mostrato ottimismo per l'atteso riconoscimento. Aver raccolto una solida base di consensi da parte del centro-destra unito alle prime due chiame, rappresenterà per lui un premio alla carriera. Meloni lo sa e glielo assicura. E intanto dice ai suoi, pensiamo a un piano B, rimbrottata dall'onorevole Sistino Giacomoni. Forza Italia, l'unico piano B per noi è quello della B di Berlusconi. Punto. Fratelli d'Italia cresce ancora nei sondaggi e fa di questa festa di partito nella suggestiva cornice prenatalizia di Piazza Risorgimento a Roma. A 200 metri da Piazza San Pietro è una occasione di ripensamento, di riposizionamento importante. Mitigando i toni da opposizione dura e pura parla di riforma fiscale in termini liberali e di transizione ecologica invitando il ministro Roberto Cingolani. Grazie a tutti.